eccoci ciao a tutti sips e battisti gli bastano 10 ragazze noi di radio vacanze 10 anni non basta messi perché sei invitato proprio tu il prossimo 24 gennaio alle ore 19 ore 20 per festeggiare il decennale di radio vacanze o se una gente di viaggio un tour operato un dian si un albergatore insomma se fai questo lavoro non puoi mancare all'appuntamento ci saranno tanti ospiti faremo tanti omaggi le regaleremo interviste insomma ci sarà veramente da divertirsi radio vacanze compie 10 anni e questi sono i cimelli ecco questa è la prima cravatta indossata della trasmissione il 24 di gennaio del 2014 per la prima trasmissione alle ore 12 città che ascolta il piave fu un successone questo qui vedi è un semplice passo detto ma che riportai da new york e quando sono andato al nella mola night eleven al memorial insieme alla felpa comprei anche questo era il 2012 e veni chiamato appunto da una radio nazionale per cominciare questo percorso e poi siamo andati avanti per conto nostra allora da allora 4000 ore di conduzione radiofonica un grande insegnante jody di radio 99 di ricordi e anche altro collega di m2o insomma mi hanno spiegato che cosa era la radio qua dietro e dietro la bandiera di vacanze qui c'è il maxi schermo che ci portiamo nei fiere qui ci sono i due mixer i vari microfoni e varie cuffie sotto gli amplificatori da quest'altra parte c'è la bellissima regia mb studio professional insomma cose da non perdere sei un protagonista del turismo sei una nostra ascoltatrice ascoltatore non puoi perdere la puntata del vicennale radio vacanze prossimo mercoledì 24 di gennaio alle ore 19 ore 20 stai con noi con radio vacanze musica divertimento e tante sorprese dieci anni non possono bastare forse per battisti ma no ciao già luigi di vacanze e soprattutto un grazie a vincenzo di guida il nostro direttore mega galattico enrico muccitelli fonico il videomaker della radio la nostra capo ufficio stampa maria grazia sartirana la nostra ufficio stampa invece di roma e isole sud italia laura parroni e riccardo cametti il nostro grande commerciale e a tutti gli altri 21 speaker che fanno con noi la di vacanze ti fanno compagnia tutti i giorni 365 giorni l'anno anche la notte ti aspetto il 24 gennaio ciao